eccomi qui, stavo spacchettando e sistemando quindi ho pensato di fare qualche storia per mostrarvi le cose che ordino solitamente quando finisco le scorte cerco di fare tutto in un unico ordine infatti mi è arrivato tutto vi mostro tutti i prodotti con cui facciamo il bagnetto che vi faccio vedere sempre e che vi garantisco essere stra buoni sia come profumazione sia come delicatezza sulla pelle del bimbo noi abbiamo la cremina lo shampoo, il shower gel che poi in realtà è un 2 in 1 e l'olio per i massaggi le salviette io le amo infatti le ordino di tutti i tipi queste hanno un profumo che mi fa impazzire queste pure e queste sono nuove non le ho mai provate infatti le volevo provare le nostre traversine le traversine sono una manna dal cielo per noi e poi ovviamente ho preso tonnellate di pannolini che io ci andrei a dormire quando arriva il corriere gli scodin solo come un cane perché ho sempre l'ansia che mi possano finire i pannolini grazie a tutti i spieghi e anche se ne vedi a un momento